Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un'ultima domanda. Avete sempre promosso il concetto di open platform. Mi dia una sua definizione e mi spieghi quali sono i vantaggi. Nella nostra definizione di open platform occorre essere partner di un ecosistema di partner. Tradizionalmente l'industria della security è stata molto chiusa e i distributori hanno sempre cercato di sviluppare una soluzione completa da vendere ai loro clienti. Crediamo che ora la tendenza sia quella di andare verso una partnership nell'industria e stabilire partnership con altri distributori del settore. Ecco cosa vogliamo dire con open platform. Nel nostro caso vuol dire collaborare con i produttori di videocamere e anche con chi sviluppa soluzioni a partire dal nostro prodotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.